Anche l'orecchio vuole la sua parte. Vodafone ti invita a tenere il telefonino in modalità silenziosa. Grazie. 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 Buonasera. Benvenuti a tutti. Io anzitutto ringrazio il meeting che ha voluto fare un momento di riflessione, di approfondimento sulla figura di Augusto Del Noce, prendendo anche spunto da l'antologia apparsa di recente nella collana dello spirito cristiano a cura mia. Ringrazio anche Larizzoli e come è nato questo libro da un dialogo con Don Giussani alcuni anni fa e poi rilanciato di recente da Vittadini e Savorana da cui poi è venuto fuori. Quindi io ringrazio cordialmente anche loro. Io oggi ho un compito un po' strano, diciamo, rispetto alla consuetudine degli incontri, nel senso lancerò qualche elemento di riflessione per presentare un po' come è stata pensata e perché è stata pensata così l'antologia, per lasciare poi invece la parola ai due illustri ospiti e grandi pensatori, il professor Ornaghi e il professor Buttiglione, perché ci aiutino a capire qual è l'attualità di Augusto Del Noce e capire anche che sfida pone una riflessione sul suo pensiero nel contesto di oggi. Brevemente, perciò, do qualche indicazione su questo lavoro. Fare un'antologia di Del Noce, in generale fare un'antologia, naturalmente, sconta sempre delle difficoltà di scelta. Su Del Noce, per chi lo conosce, si comprende benissimo che la densità, la complessità e l'articolazione profondamente connessa di tutto il suo lavoro, rende particolarmente arduo il compito della scelta. Comunque, la scelta che ho voluto fare è stata di cercare di dare uno spettro di lettura complessiva del pensiero Del Noce, che lo togliesse un po' da semplicemente un discorso su un'attualità cronachistica, giornalistica e delle vicende politiche, come è stato per gli ultimi anni della sua vita, e aiutasse a capire in qualche modo quali sono i cardini di fondo della sua riflessione. Affrontando anche un po' la sfida della presentazione di una certa complessità che naturalmente la pagina Del Nociana sempre offre e propone. Perciò è diviso in quattro sezioni il lavoro. La prima sezione cerca di mettere in luce quello che, a mio avviso, è il punto cruciale per la comprensione di tutto il percorso di Del Noce, cioè la problematicizzazione dell'ateismo. Vale a dire, l'ateismo non è il destino dell'Occidente, ma ne è una sfida e un problema. Del Noce aiuta anzitutto a fare un profondo lavoro di revisione storico-critica che è un profondo lavoro di comprensione di sé e dell'epoca moderna. Anzitutto mostrando che il nichilismo è sì una conseguenza inevitabile, ma è una conseguenza inevitabile di una libera opzione fatta all'inizio della modernità e che egli definisce razionalismo. Perciò anzitutto, se è vero che l'ateismo costituisce una sfida radicale all'uomo di oggi, è vero però che esso non è il destino inevitabile, l'unico approdo della modernità. È un possibile approdo che si configura anche con dei caratteri profondamente maggioritari, soprattutto dal punto di vista culturale, ma che nello stesso tempo entra in crisi, cioè non riesce a mantenere sé stesso nell'opzione originaria che l'aveva mosso. Quindi l'ateismo come esito inevitabile del razionalismo. Intendendo per razionalismo quello che Del Noce definisce, usando le definizioni di Laporte, il grande studioso francese che è stato un punto di riferimento frequente nell'analisi soprattutto di Cartesio che ha fatto Del Noce, definito come il rifiuto del mistero senza prove. Cioè la religione che rifiuta il mistero senza prove, cioè in modo dogmatico. E quindi considerazione della condizione dell'uomo come normale. Vale a dire una condizione non come la tradizione cristiana ha sempre affermato essere, cioè di natura decaduta, per un fatto tragico e traumatico che sta all'inizio della storia, ma condizione normale dell'esistenza. Condizione normale dell'esistenza che naturalmente determina immediatamente un atteggiamento sul problema del male che può avere due flessioni. O identificazione del male con il finito e quindi lo sviluppo di un pensiero che deve in qualche modo superare il finito secondo un indirizzo gnostico, così è anche il pensiero rivoluzionario che in fondo in qualche modo deve negare radicalmente il presente per una rivoluzione totale e quindi spostando nel futuro quello che l'ognosticismo normalmente metteva in un'altra dimensione, oppure allentamento, diciamo dissoluzione del problema stesso del male. Quindi quell'accettazione dell'esistente che, come disse in alcune definizioni degli ultimi suoi anni, l'ichilismo gaio, cioè questa accettazione dell'esistenza, che cancella o cerca di cancellare il problema del male dalla vita e dall'esistenza. Ecco, il primo punto, la prima sezione è dedicata a questo, facendolo vedere in che modo. Del Noce mostra come questa opzione sia conseguenza di una serie di scelte teoretiche che vengono fatte nella modernità, richiamandosi ad un aspetto, non l'esclusivo, ma un aspetto della filosofia di Cartesio. E quindi una revisione profonda della storia, della storiografia filosofica, che mette in luce soprattutto come in Cartesio ci sia sì un nuovo inizio, ma un nuovo inizio profondamente ambiguo. E come in Cartesio coesistano elementi che portano effettivamente al razionalismo, ma nello stesso tempo coesistano nel pensiero di Cartesio una dimensione profondamente religiosa che invece apre la possibilità dello sviluppo di un'altra via che gli definirà ontologismo. Ma di questo diranno molto meglio gli altri relatori. La seconda e la terza sezione dell'antologia illustrano come ci sia una profonda coerenza. E qui c'è un altro aspetto, a mio avviso, veramente profondo dell'opera di Del Noce. Tenete conto che quello che dicevo della messa in crisi di un canone storiografico, pensate come è vero e come è incidente, per esempio, nella proposizione della costruzione dei programmi scolastici. Come sia vero che questa presentazione della modernità, come se fosse quasi un destino inevitabile, quello dell'emergere, dell'affiorare come totalizzante una dimensione nichilista, sia quasi una vulgata inconsapevolmente assunta come, diciamo, nella possibilità illuministica, l'umanità diventando adulta può rinunciare al problema che il mistero della vita pone alla vita stessa. Seconda e terza sezione, dedicata invece al marxismo e al fascismo, visti, e qui un altro elemento veramente originale dell'analisi di Del Noce, in profonda coerenza con l'opzione razionalistica. Pensate anche questo come è versivo rispetto a una storiografia diffusa e corrente, che, peraltro, è difficilmente critica nei confronti di una certa impostazione filosofica del marxismo, anche perché Del Noce è stato tra i primissimi a riconoscere la potenza filosofica del marxismo. E i grandi errori che egli imputa anche tanto spesso al mondo cattolico sono quello proprio di averne sottovalutata la potenza filosofica e quindi anche la capacità di assumere in sé e in qualche modo orientare una dimensione complessiva della lettura dell'esperienza storica e quindi umana. E così tante ambiguità del cato comunismo sono nate soprattutto sull'aspetto di una ingenuità profonda e di un'incomprensione di quella potenza filosofica e tutti i tentativi di conciliazione, peraltro, sono sempre falliti ad anno, anzitutto, del pensiero cattolico. E dall'altra parte il fascismo, il titolo che ho messo riprendendo una sua definizione, il momento fascista della secolarizzazione, anche il fascismo è una flessione profondamente coerente con l'opzione razionalistica, perché dal razionalismo è inevitabile che consegua nella sua dimensione storico-politica una forma di totalitarismo. La ragione non riconoscendo nulla oltre se stessa, pensa e pianifica un'organizzazione della società che è nella sua natura stessa totalitaria. Poi, con varie flessioni, che adesso non sto qui ad approfondire, ma che hanno portato a una riflessione acutissima del noce, del legame tra fascismo e attualismo, cioè il pensiero di Gentile, quindi una profonda elaborazione culturale che portava a un certo sviluppo, quell'eredità hegeliana, l'eredità di un razionalismo che negava il materialismo del marxismo e invece faceva emergere il tentativo di fare uno spiritualismo che però inevitabilmente finiva per diventare una sorta di attivismo, assolutizzazione dell'azione che nega poi l'idea stessa della verità. E qui l'ultimo punto, cioè sia il marxismo sia il fascismo che non soltanto sono coerenti sviluppi dell'opzione razionalistica, ma dall'altra hanno entrambe un comune esito, che è il nichilismo, perché entrambi concorrono su fronti diversi a corrodere la pretesa veritativa di una tradizione e a costruire un mondo che è svincolato dall'idea di verità, ma svincolando l'idea di verità devono perdere entrambi le propulsioni orientative per cui il marxismo perde la dimensione dialettica, vale solo più il materialismo, ma in questo punto il materialismo diventa l'elemento corrosivo di tutte le verità e così l'attualismo, cioè l'affermazione dei valori soltanto come affermazione della volontà di potenza finisce per diventare la negazione radicale di qualsiasi implicazione di verità nei valori e nel pensiero. L'esito coerente di entrambi, che sono perciò flessioni distinte ma complementari di una medesima opzione, porta come esito a quello della società nichilista, che è la società in cui siamo. E qui, per concludere e lasciare la parola agli altri relatori, dico brevemente l'ultima sezione dedicata al tema del cristianesimo. Però, anzitutto con una osservazione, mi pare che una grande virtù di Del Noce sia stata non soltanto quella di mostrare l'imminente, diciamo, è stato detto che Del Noce è stato profetico nell'immaginare la fine del marxismo. Diciamo che, in realtà, dal punto di vista filosofico, ha dimostrato l'insostenibilità teoretica del marxismo. E quindi una crisi ingenita, quindi anzitutto ha combattuto il marxismo non tanto perché il marxismo è storicamente fallito, ma anzitutto perché il marxismo è falso. Questo è molto importante dal mio punto di vista come riflessione filosofica. ed è l'insostenibilità delle due dimensioni che avrebbero dovuto portarlo necessariamente a una sua dissoluzione. Cioè l'elemento materialistico e l'elemento dialettico non potevano coesistere. Ma non è solo questo. Diciamo che Del Noce ha capito che più che il 1984 di Orwell il destino della società diventava il mondo nuovo di Axley, cioè la società tecnocratica fondata su una grande strapotere della scienza non più orientata da valori assoluti e perciò, diciamo, dominio della potenza tecnica, negazione del problema della verità, ma in questo senso una sorta di dittatura che può esprimersi, o di totalitarismo, della non verità, che può esprimersi anche benissimo in forme democratiche. A questo punto la sfida per il cristianesimo è duplice. Primo, il cristianesimo mette in luce e svela la natura, e diciamo così, opzionale e originaria che c'è nel razionalismo e mostra la coesistenza sempre possibile di un'altra via, quella che poi storiograficamente Del Noce tratteggia come la storia dell'ontologismo, da Malbranche, Pascal, Vico, Rosmini, per certi aspetti Gioberti, e poi lo sviluppo anche di quel atomismo attento ai temi dell'esistenzialismo, soprattutto in Maritain e in Gilson. Ma dall'altra parte, quindi da una parte svela questa natura opzionale, contesta, contesta l'aspetto dogmatico del razionalismo per cui esso si pone come unica lettura della storia e pone se stesso l'ateismo come unico destino, e dall'altra parte apporta una intelligenza al problema umano che raccoglie la sfida della crisi della società nichilistica, perché se era una società nichilistica aveva come scopo quella liberazione totale dell'uomo, liberandola appunto dall'idea di verità, secondo la profezia entusiastica di Nietzsche, in realtà porta a una contraddittorietà che non riesce a gestire nemmeno essa stessa. E quindi il cristianesimo è portato ad una sfida perché mostra ed è chiamato a verificare nel presente la verità di una tradizione che non è semplicemente un bagaglio tradizionale che viene avanti secondo un connotato già definito, ma è chiamato come avvenimento, verità come avvenimento che implica sempre una scelta della persona e che pone sempre nuove necessità, di nuove risposte, nuove sfide, chiede una intelligenza nuova anche della realtà del presente. L'opzione per una ragione aperta all'altro, per una ragione aperta al mistero, per una ragione che sa aprirsi in modo non conclusivo, ma sa riconoscere una dipendenza e perciò una responsabilità dalla verità e ciò di cui più la società tecnocratica ha bisogno per non finire in una disgregazione totale dell'umanità che può avere sia la forma della selezione, per esempio genetica totale, ma sia anche quella del suicidio di massa che tanti fenomeni che oggi noi vediamo esprimono nella nostra società. Questa è la costruzione dell'antologia, io spero che sia utile il lavoro fatto soprattutto per dare questi insiemi di prospettiva complessiva che ha mosso il pensiero di De Noce che naturalmente ha molti altri elementi, molti altri spunti che qui non compaiono essendo questo appunto un lavoro antologico e parziale. Ma lo sforzo è questo. A questo punto credo che sia veramente interessante ascoltare da un autorevole studioso come il professor Ornaghi che non ha, diciamo, una connessione con De Noce che nasce da un percorso di scuola ma profondissimamente coinvolto per le tematiche da lui sempre studiate, per la disciplina da lui studiata, sentire anzitutto come lui sente la sfida o la provocazione che De Noce pone a noi anche oggi o la vitalità che il suo pensiero può dare a chi è oggi riflessivo e pensoso sul destino proprio e dell'umanità. Grazie, grazie ad Alberto Mina per due ragioni fondamentali, anzi forse due e mezza posso dire tre. La prima per questa introduzione che consente di aprire le nostre riflessioni, quelle di Rocco Buttiglione e mia. La seconda ragione è per aver curato questa antologia e davvero voglio esprimere il mio compiacimento. Non è così frequente avere tra le mani poter leggere un'antologia utile. Utile in questo caso significa un'antologia che anziché ripercorrere, magari fossilizzando il pensiero di un autore, raccogliendo alcune pagine attorno a nuclei, a temi, sono quelli illustrati da Mina poco fa, consente di, e sarà la mia prima riflessione, di osservare, considerare, interrogarsi sull'attualità, non tanto di un autore, non solo di una persona, ma sull'attualità di una concezione, in questo caso di una concezione filosofica. Il mezzo ringraziamento è dato dal fatto che con la sua esposizione mi aiuta a far capire meglio perché mi trovi in uno stato qui, questa sera, di soggezione, per cui ho anche scritto qualche appunto, no? Di soggezione perché sapevo di trovarmi con un filosofo, invece ho due filosofi. E io ho sempre avuto un sentimento di soggezione con Rocco Buttiglione per due fattori. Uno lontanissimo nel tempo che Buttiglione non ricorda, cioè io ero laureato da poco, abbiamo la stessa età, ma Buttiglione già teneva dotissime riflessioni a Listra, non so quanti qui ricordano Listra, ma qualcuno in prima fila sì. Su un autore che io, venendo non da Del Noce, ma da Gianfranco Miglio, che qualche elemento, magari un po' così, di protagonismo con Del Noce ce l'aveva su un altro versante, avevo letto, ma avevo letto, l'autore sarebbe Marx, nella versione soprattutto di Umberto Cerroni, quindi avevo tutta la interpretazione cerroniana, e poi da lì quella sovietica, Pasciucanis, eccetera, e invece Buttiglione a Listra spiegava altre cose. Aveva letto quegli autori, io non ho mai letto, devo dire, non so se è una virtù, è stato un peccato. Noi francofortesi, che ho letto molto dopo, ma solo per ragione di ufficio. Soggezione accentuatasi, ma finisco i dati personali subito, quando, per i casi della vita, mi trovo a Teramo a insegnare scienza politica. La facoltà di scienze politiche di Teramo era modellata esattamente su quella romana, per ragioni di imperialismo romano, ovviamente, e quindi io, anziché insegnare le matricole, insegnavo al quarto anno scienza politica, che era lo stesso anno di insegnamento di Buttiglione, che insegnava filosofia politica. Per questo, i poveri studenti, che non erano masse, i terramani erano cinque o sei, avevano da un lato uno che pretendeva che la filosofia politica fosse la politica episteme di Aristotele, quindi fosse la scienza sovrana, e dall'altro, un'altra persona, che ero io, che anche lì, razione materia, e se non l'avesse fatto così, non avrebbe fatto carriera, doveva spiegare che invece era la scienza politica a far capire al mondo che non la filosofia. Forse aveva più ragioni Buttiglione, ma non potevo dirle, per i motivi che ho appena esposto. Detto questo, e quindi motivato perché ho degli appunti, parto dal primo appunto che mi sono segnato, ed è l'ottima introduzione, in titolo appunto Attualità del pensiero di Augusto del Noce. Ma che cosa vuol dire attualità? Quando un pensatore attuale, quando un pensatore esce da quella condizione che uno degli ultimi articoli ripubblicati lo dice bene, sembra essere la condizione di un pensatore solitario, solitario è il pensatore che non è lì sulla sua torre d'avorio, che guarda il mondo e dice ho ragione io, ma solitario è chi è messo nella condizione di essere solitario, cioè colui il quale forma le idee che non riescono a entrare, non per demerito suo, ma perché c'è dall'altra parte una volontà di non farle entrare, non riesce a far entrare le sue idee nel circuito generale, quello appunto dei giornali, dei commenti, delle valutazioni incrociate, cioè le sue idee non, diciamo così, sembrano non mordere il pubblico, il pubblico non le conosce. Allora l'attualità di Del Noce è che chi legge oggi questa antologia dice, perdonate lo stilemo un po' gergale, che va, Del Noce aveva ragione. Moltissime di quelle idee, e ciascuna di quelle idee gli è costata fatica, gli è costata fatica, immagino nel difendere la con coerenza, nel proporla con rigore, nel fare in modo che uscisse, dalla solitudine, quelle idee sembrano essere diventate vittoriosi, fanno parte, chi legge oggi, la gran parte dei giovani che leggesse queste pagine, dice, ma certo, è così. Trent'anni fa, non riuscivano a queste idee, ad affermarsi, perché la situazione politico-culturale era questa, ma, allora, la mia prima domanda, ma era una domanda che veniva a me stesso da formulare, leggendo, scorrendo queste pagine, ma siamo davvero sicuri che Del Noce ha vinto, siamo così sicuri che la nostra prima impressione, queste idee sono diventate le idee vere. È davvero così. O non piuttosto siamo in presenza del fatto che diffusesi in certi cenacoli di intelligenza, in certi gruppi ben più estesi di quanto non fossero trento-quarant'anni fa, in realtà, ecco il dato più formidabile, più formidabile nel senso proprio, cioè più temibile, ma che Del Noce aveva intuito, quelle idee, quelle idee che erano di certi circoli allora egemoni, sono diventati magari inconsapevolmente gli alimenti di comportamenti sociali diffusi. Ecco, mi pare che in questo senso quel che è una vittoria, la vittoria delle idee di Del Noce sia anche vittoria laddove egli additava un pericolo straordinario per le nostre società, non solo per quella italiana e che era il pericolo del nichilismo, cioè proprio di Del Noce l'affermazione che il nichilismo è diventato, sta diventando un nichilismo di massa, ecco ragioniamo, di massa, questo termine è importante, lo recupero anche nella seconda delle mie osservazioni. Allora, il nichilismo di massa è il nichilismo delle concezioni o delle idee che magari non controlliamo nemmeno perché sembrano talmente verità autoevidenti, verità ovviamente fra virgolette, sono i criteri consueti di comportamento, sono le rappresentazioni sociali più diffuse, sono nel senso più materiale e quindi forse più proprio del termine la cultura materiale di un popolo, ecco quel nichilismo di massa è quel fenomeno che fa dire sì certo c'è una vittoria delle idee di Del Noce ma non c'è una vittoria complessiva il che pone la seconda domanda che credo rilevante anche in relazione a un tema emerso in queste settimane sulle pagine dei giornali, dei soliti commentatori di giornali cioè qual è la fine della funzione degli intellettuali la domanda sottesa è ma quando le idee che gli intellettuali producono davvero toccano la realtà quando riescono a orientare comportamenti a adopero il termine con tutte le precauzioni del caso ma a modificare quindi quando convincimenti convinzioni verità anche filosofiche riescono a costruire una realtà o quantomeno riescono a informare una realtà sono non soltanto elementi messi su delle pagine e questo credo che quando si parla dell'attualità di un pensatore debba essere tenuto in considerazione c'è un secondo punto su cui volevo brevemente intrattenervi ed è un punto che mi veniva in mente in quella pagina dove Del Noce richiama Proudhon e richiama Proudhon dicendo l'osservazione di Proudhon per cui dice al fondo di ogni politica c'è la teologia Proudhon probabilmente lo diceva anche in chiave negativa per dire alla fine al fondo o alla base di qualsiasi concezione politica c'è qualcosa che sfugge che non può essere controllato scientificamente c'è una teologia in senso negativo ma mi veniva in mente che questa osservazione di Proudhon speculare un'altra una formula a me più congeniale una formula da me più conosciuta la formula schmittiana la teologia politica e quindi la politica la politica moderna la politica degli stati moderni la politica che arriva fino alle nostre democrazie è appunto una traslitterazione laica razionalizzante anche in questo caso con tutte le cautele del caso necessarie della teologia e però qual è il punto? il punto è che proprio richiamando quell'osservazione di Proudhon al fondo della politica c'è sempre una teologia mi viene in mente che una delle se così posso dire attualità maggiori della concezione di Del Noce una delle ragioni per cui le sue idee possono non essere confinate come succede a tutti gli intellettuali le pagine dei libri ma diventare elementi di produzione sociale più ampia sta forse qui perché mi pare che in filigrana e forse neanche tanto in filigrana ci sia nettissima in Del Noce la convinzione che la politica la politica a cui siamo arrivati la politica di quel novecento che lui storicizza se posso fare questo termine in maniera appropriata sia una politica che vada ripulita cosa vuol dire ripulire la politica ripulire la politica significa forse e qui torna l'eco della politica episteme greca e ricondurla o tornare a considerarla nei suoi fini essenziali fra i fini essenziali della politica non vi è la propria autoconservazione noi siamo ahimè in presenza di sistemi politici quasi tutti i sistemi politici dell'Occidente che tendono soltanto ad autoconservarsi tendono illusoriamente ad autoperpetuarsi ma la loro finalità che è la finalità di questa è la politica è rispondere ai bisogni ai bisogni attuali della persona ma anche i bisogni che compariranno ai bisogni futuri e questa finalità si è persa questa finalità nella politica dico non solo nella politica italiana non la si coglie più allora forse in Del Noce la percezione che è appunto ecco il recupero dell'osservazione di Proudhon a fondamento della politica vi è una teologia noi potremmo dire certo mutandola nell'impostazione di Del Noce a fondamento di ogni concezione politica se non vuole essere ideologica se non vuole essere ideologica vi deve necessariamente essere una antropologia se non vuole essere ideologica ecco credo che l'operazione di ripolitura sia nelle concezioni della politica ma nella stessa prassi politica nell'agire politico di quello dei politici ma anche credo di noi comuni cittadini sia il più possibile ripulire dalle incrostazioni ideologiche incrostazioni ideologiche che sono le incrostazioni di quelle ideologie che Del Noce ha studiato non sono ideologie nuove sono appunto i cascami delle vecchie ideologie l'ideologia marxista certi cascami del liberalismo pur anche uno dei saggi più belli più importanti che davvero solleciterei ognuno di voi a leggere è il commento che Del Noce fa un articolo di Rodano sul Redemptor Ominis di Giovanni Paolo II è importante credo rileggere quella pagina quelle pagine di Del Noce per capire che non tanto erano polemiche ma erano modi di pensare modi di pensare ideologici che non si sono affatto esauriti allora ma che in forme diverse con potenziale antagonistico diverso ma continuano continuano bene allora ripulire dalle incrostazioni ideologiche significa avere per esempio a mio modo di vedere la consapevolezza la consapevolezza che le ideologie e la politica servono non si fa politica senza ideologie ideologie sono gli strumenti normali di battaglia politica sono anche gli elementi che identificano frazioni di classe politica ma le ideologie non possono diventare il fine o il fondamento dell'agire politico questo è il punto credo fondamentale allora ripulire dalle incrostazioni significa e torna quella mia osservazione sulla posizione solitare di Del Noce o sulla solitudine molto spesso degli intellettuali il meno possibile conformarci a quello che è il conformismo dominante che è un'altra in me rappresentazione sociale e prassi sociali diffuse è un'altra forma di nichilismo quella del nostro conformismo è il conformismo anche questa è un'espressione che recupera dal settecento Del Noce è molto bella il conformismo della Repubblica delle Lettere se la traduciamo in termini attuali abbiamo altre dominanti e talvolta oppressive Repubbliche delle Lettere allora in questa ripulitura della politica delle antiche incrostazioni credo che ed è l'ultimo tema che vorrei sottolineare anche se sottolineare brevemente per ragioni di tempo si capisce la ragione di un'altra grande attualità o un'altra grande lungimiranza o capacità previsionale se vogliamo metterela così di Del Noce che riguarda il rapporto fra religione e politica la Repubblica delle Lettere quando pone certe concezioni quando afferma certe concezioni del tutto errone errone anche da un punto di vista storico di laicità quando ripropone antitesi infondate fra religione e politica in realtà che cosa riafferma riafferma il primato della politica ideologica su una politica senza ideologie il primato della politica ideologica sull'antropologia in realtà la visione corretta della visione del Nociana del rapporto religione-politica porta a dire la politica in questo senso anche il ritorno del sacro non è un elemento reattivo porta a dire attenzione che la religione è plasmante deve essere può essere deve essere plasmante una realtà e deve può essere plasmante anche la realtà della politica sotto questo profilo ma qui davvero chiudo una delle osservazioni forse di nuovo più formidabili di Del Noce e credo sia proprio in quelle pagine di risposta rodano in una sua riflessione sulla democrazia mentre ancora molti ancora molti fra noi credono che la democrazia sia debba essere il regime perfetto salvifico a cui tutto si piega Del Noce con una prospettiva devo dire non dico storicistica ma con una prospettiva storica o una prospettiva fosse ispirata allo stesso e in maniera corretta paradosso di Dionieto dice attenzione che però superiore alla stessa democrazia è la persona perché è la persona che è Capax Dei non è la democrazia allora questo serve rispetto a molte incrostazioni ideologiche che sono sulla stessa nostra concezione di democrazia sulla nostra stessa prassi di democrazia a farci sollevare il quesito ma cos'è davvero il funzionamento di un regime democratico cos'è davvero la democrazia non la democrazia laica ma la democrazia come si pone il rapporto alla religione e come chi ha fede per esempio può molto laicamente contribuire a quella cosa che non è una formula retorica o un sacco vuoto da riepire secondo le convenienze che è il bene comune però mi fermerei qui perché grazie buttiglione non ha bisogno di nessuna presentazione nemmeno per quello che riguarda gli aspetti di relazione con del noce col suo pensiero con tutto ciò che è legato anche alla fronte dei temi io riprendo tre cose del professor Naghi che mi sembra mettono in luce un aspetto su cui proverei a lanciarti uno spunto ideologia antropologia fondamento nella persona della democrazia c'è in ballo un'idea di verità o una relazione tra la persona e la verità che mi sembra essere un punto cruciale anche questo richiamato nel titolo dell'antologia della riflessione di del noce io sono in grande imbarazzo tanto più che Lorenzo Ornaghi ha cominciato prendendomi in giro e affermando che è lui ad essere in imbarazzo immaginate un povero politico travolto da quella ondata di analfabetismo di ritorno che si abbatte implacabile su tutti i politici che è messo ad un tavolo con due eminenti filosofi uno dei quali anche il rettore della università cattolica del Sacro Cuore però ho una fortuna la fortuna sono gli anni quando uno ha vissuto molti anni come ho vissuto io comincia ad avere qualcosa da raccontare e può sempre rifugiarsi nel autobiografismo nel ricordo e allora io vorrei partire da un ricordo magari anche incoraggiato dalle ultimissime pagine della antologia in cui Del Noce ci parla del rapporto con CL io pensavo leggendole a come inizia il rapporto di Del Noce con CL perché in realtà quel rapporto l'ho fatto iniziare io avevo 18 anni avevo letto il problema dell'ateismo perché Don Ciccio Venturino a Catania mi aveva obbligato a leggere un libro difficilissimo assolutamente incomprensibile avevo 16 anni Ornaghi che era letto può immaginare ma lì veramente era un'esperienza di pura fede Don Ciccio aveva detto che bisognava leggerlo e io l'ho letto fino all'ultima pagina non so quanto ne abbia capito allora non so neanche quanto ne abbia capito adesso però l'ho letto fino all'ultima pagina poi vado a Torino mi capita di andare a scuola col figlio di Del Noce al liceo Massimo D'Azeglio e il padre fa una conferenza al Monte dei Cappuccini mi ricordo ancora insieme con Gilson e io vado e da cosa nasce cosa c'erano i venerdì letterari no prima ce ne fu una al al Palazzo Carignano e poi dopo un ricevimento al Monte dei Cappuccini e da cosa nasce cosa io mi entusiasmai e andai a parlare con Don Giussani Don Giussani allora era un po' recluso aveva la proibizione di parlare con quelli di CL no di GS non c'era a meno che non andassero uno per volta quindi andavamo in tre in macchina da Torino però con lui parlavamo uno per volta e io gli parlavo del Noce stava maturando in me in qualche modo l'idea di un di un percorso di vita che mi avrebbe portato a stabilire con Del Noce quella amicizia e quella collaborazione che poi è durata per non vi dirò quanti anni ma tanti più di 20 24 25 anni fino alla sua morte e di cosa parlavamo con Don Giussani io ricordo una una cosa che molti di voi hanno sentito raccontare da Giussani vi ricordate quando Giussani parlava del suo primo impatto con la scuola lui va a scuola e a scuola al al Berset trova un collega un collega razionalista ateo e si scontrano sul tema della certezza perché questo qui dice che bisogna credere soltanto ciò che si sa unità di fede e sapere e si sa solo quello di cui si ha esperienza diretta oppure che è deducibile dall'esperienza diretta attraverso una regola logica di trasformazione di per sé evidente incontrovertibile apodittica Giussani non diceva apodittica ma nel linguaggio tecnico della filosofia si dice così e cosa gli diceva Don Giussani gli diceva ma guarda prendiamo una una cosa importante no l'esempio che faceva lui ne faceva due una parola dell'America io in America non ci sono stato non ho un'esperienza diretta e non ho neanche la possibilità di derivare l'esistenza dell'America da un'esperienza diretta attraverso regole di trasformazione logicamente apodittica però io credo che l'America c'è tu ci sei stato no e come fai a credere perché dici che l'America c'è e quello spicchiolava alla fine si rifugiava sugli specchi no l'America non c'è forse non c'è non lo so l'altro esempio era più umano e Giussani diceva ma io credo sono convinto ho sicurezza ho certezza del fatto che mia madre mi vuole bene ho una certezza apodittica di questo fatto posso dimostrare secondo una regola logica che in questo e in qualunque altro mondo possibile mia madre mi deve volere bene non è possibile ho un'esperienza empirica che mi dia una certezza assoluta no perché Don Giussani che non aveva letto Popper però già intuiva che il principio di induzione ha un limite perché dire tutti gli uomini sono mortali in un certo senso logicamente sulla base della pura induzione non è possibile perché finché non sono morti tutti gli uomini non sappiamo che tutti gli uomini sono mortali potrebbe nascere un uomo il quale non muore e quindi come ha spiegato poi Popper un qualche pur limitato margine di dubbio c'è e cosa voleva dire Giussani con questo ci parlava di certezze morali certezze che nascono dall'esperienza della vita mentre l'altro professore quello quello ateo parlava di certezze apodittiche e ti invitava a non vivere l'esperienza della vita perché l'esperienza della vita non si lascia costruire con certezze politiche mettila fra parentesi e invece ragiona a partire da qualcosa che è staccato dall'esperienza della vita la teoria parola che poi Giussani prese in una certa fase addirittura in odio invece Giussani ci invitava a partire dall'esperienza della vita a non mettere fra parentesi l'esperienza della vita a costruire una certezza che nasceva dall'osservazione della realtà e dal rischio perché dall'osservazione della realtà deriva il fatto che tu della realtà ti fidi è sulla ipotesi non so che quella ragazzina bionda ti voglia bene tu le fai la corte e poi magari la sposi è una certezza apodittica non è una certezza apodittica è una certezza esistenziale che poi cresce nel corso della vita e dopo 30 anni erotti è più certa di quello che era all'inizio la certezza come esperienza esistenziale stiamo parlando di Don Giussani no stiamo parlando di Don Giussani e il professore Ateo sono due lati di Cartesio di Cartesio come in modo straordinario lo ha interpretato Del Noce quando ha lavorato sulla idea di ragione cartesiana il professore Ateo è evidentemente cartesiano perché che ha fatto Cartesio Cartesio ha fondato la scienza moderna oddio a noi piace di più dire che l'ha fondata Galileo il che in parte è anche vero ma adesso non abbiamo tempo di spiegare cosa c'entra Galileo che c'entra ma non abbiamo tempo e parleremo solo di Cartesio perché Cartesio ha fondato la scienza moderna perché Cartesio ha inventato la geometria analitica pensate al sistema di assi cartesiani col sistema di assi cartesiani siamo in grado di situare un oggetto in qualunque punto dello spazio con un numero limitatissimo di coordinate con due coordinate possiamo dire in realtà possono anche essere di più perché noi possiamo poi moltiplicare i piani un numero infinito di piani passano per ogni linea e quindi possiamo seguire poi lo sviluppo di questo oggetto non solo su di un piano ma su una pluralità di piani ma noi abbiamo la possibilità di collocare nello spazio qualunque oggetto attraverso un sistema di astrazione noi abbiamo delle regole certe le quali ci consentono di comprendere il mondo il mondo beh non tutto il mondo il mondo delle cose che hanno una dimensione il mondo degli oggetti i quali hanno una dimensione o più dimensioni ma comunque il mondo degli oggetti corporei possiamo seguire il movimento della massa nello spazio la massa la introdurrà Leibniz un po' dopo ma comunque il concetto è quello quando ha scoperto questo Cartesio ha posto le basi della moderna ragione scientifica e si è posto un problema siamo in grado di costruire una scienza dell'uomo del mondo morale del mondo umano che abbia le stesse caratteristiche di quella che abbiamo costruito del mondo della estensione è possibile costruire una scienza del mondo dello spirito la quale abbia le stesse caratteristiche della scienza del mondo dell'estensione e anche lo stesso tipo di certezza e si disse passerò la vita a indagare il problema ci proverò fin quando non ci sarò riuscito però rimarrò all'interno della religione cattolica e delle regole di esperienza che questa ha avuto perché mi sembra che corrisponda con i desideri fondamentali del mio cuore e mi ci trovo bene la vivo come una risposta alle domande alle attese alle speranze del mio cuore poi vediamo si riesce a costruire una morale scientifica nel senso della fisica moderna la quale sostituisca questa comprensione dell'uomo il povero Cartesio voi sapete morì relativamente giovane perché la regina Cristina di Svezia voleva imparare la sua filosofia ma la Svezia è fredda la regina si alzava presto voleva fare le sue lezioni di filosofia la mattina alle 4 e mezza dopo alcuni mesi il poverino prese la polmonite e morì morì senza avere scoperto la scienza del cuore umano dopo Cartesio spiegava del noce ci sono due direzioni della filosofia moderna una è quella di Spinoza Spinoza ha scritto un libro che si intitola Etica More Geometrico Demonstrata il titolo dice tutto è il tentativo di costruire una geometria razionale del cuore umano in modo da poter parlare della realtà umana con la stessa certezza con lo stesso tipo di certezza non con lo stesso grado di certezza con lo stesso tipo di certezza con il quale parliamo della 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 fisica e da Spinoza deriva quel animale brutto e intrattabile che del noce ha cordialmente ha odiato per tutta la vita che si chiama filosof nel linguaggio del settecento e intellettuale nel linguaggio del novecento chi è l'intellettuale? uno che senza avere esperienza di nulla senza mettere in alcun modo in questione l'esperienza vera della vita ritiene di possedere un sapere che gli consente di dirti quello che devi fare cosa è bene cosa è male dispone di quella etica more geometrico dimostrata l'altro grande successore di cartesio è invece pascal pascal sviluppa un'idea di ragione che in parte è critica di cartesio ma in parte è la vera continuazione di cartesio la ragione di pascal è una ragione che sa che ci sono delle ragioni del cuore che la ragione non conosce che la scienza dell'uomo è diversa dalla fisica che non è a partire dalla fisica che capirai mai cosa è il cuore umano e anche se vuoi parlare di dio l'essere tutta la metafisica si costruisce sul concetto di essere ma l'essere di cui parli quando parli di dio non è un essere che devi dedurre o farti consegnare dalle scienze fisiche è quello che trovi nel tuo cuore cogito ergo sum sum penso dunque sono io sono e il tema di dio è quella grandezza di cartesio lo trovo parlando del mio cuore a partire dall'essere del mio cuore non da un altro essere non dall'essere di cui mi parla la fisica a partire dall'essere del mio cuore l'ontologismo riscoperto e un po' rimodernato diciamo anche da del noce allora c'è un'idea di ragione riduzionista la quale pretende di ridurre l'uomo alla scienza nel senso della scienza fisica della scienza naturale è un progetto per cui dalla fisica bisognerà poi bisognerà costruire una chimica che è fondata sulla fisica una biologia che è fondata sulla chimica una psicologia che è fondata sulla biologia e poi una scienza dell'uomo e della felicità fondata sulla psicologia o sulla sociologia è il grande programma della enciclopedia positivistica che è è andato male l'ultimo grande critico di questo programma no l'ultimo grande tentativo di realizzare questo programma è stata la scuola di Vienna e l'ultimo grande critico il critico definitivo è stato Karl Raymond Popper Popper ha spiegato come quel programma è logicamente inconsistente non può funzionare neanche per le scienze naturali figuriamoci per le scienze dello spirito invece l'idea di ragione che viene fuori proseguendo sull'asse lo chiameremo Giussani del Noce chiamiamolo Giussani del Noce proseguendo sull'asse Giussani del Noce è un'idea di ragione che non nega i diritti della formalizzazione a volte nel mondo cattolico c'è tutto un odio contro la scienza moderna contro la formalizzazione contro la situazione perché la scienza moderna deve funzionare così per capire un mondo di puri oggetti per capire un mondo di puri oggetti non c'è niente di meglio del metodo cartesiano la parte come dire la prima parte la geometria analitica gli assi cartesiani e tutto quello che ne è derivato certamente non posso applicare quel metodo a capire il cuore dell'uomo ecco perché Vico filosofo che del Noce amava tantissimo parla di una scienza nuova nuova rispetto a che cosa qual è la scienza vecchia a proposito raramente nei manuali di filosofia dei licei quando si parla della scienza nuova di Vico ci si domanda è la scienza vecchia qual era? era quella di Aristotele? no! era quella di Cartesio la scienza vecchia a cui Vico oppone la scienza nuova non come negazione come integrazione come apertura di un altro orizzonte è la scienza vecchia e la scienza di Cartesio una ragione la quale parte dall'esperienza del cuore dell'uomo non mette fra parentesi l'esperienza del cuore dell'uomo non annulla l'esperienza del cuore dell'uomo riconosce i diritti della formalizzazione ma sa che il mondo umano non è il mondo di puri oggetti questo potrebbe essere anche l'espressione una formula felice per dire lo specifico di Vico qual è la scoperta di Vico? il mondo umano non è un mondo di puri oggetti è un altro mondo è dentro quell'altro mondo allora come ti orienti? ti orienti a partire da una esperienza un'esperienza di vita la tua esperienza di vita individuale certo ma non solo perché la tua esperienza di vita si costruisce sempre nel dialogo con l'esperienza di vita di altri e questo dialogo prima di tutto è con quello di tuo padre e di tua madre è con quello delle generazioni che sono venute prima di te e che ti hanno messo al mondo si chiama tradizione mentre quel modello epistemico distrugge l'idea di tradizione che serve a tradizione a niente e questo modello epistemico valorizza l'idea di tradizione perché capisco meglio la mia esperienza di vita paragonandola con quella di altri e se io pensassi di chiudermi all'esperienza della storia dell'uomo per cominciare tutto da capo io sarei un folle dice bene eraclito tu logo deontos xiu du piaceva molto a del no c'è anche questo zo usi noi polloi os idian e contes fronesim essendo estranei a logos vivono gli sciocchi come se possedessero una sapienza tutta propria che è lo sciocco l'idiota os idia fronesis idios è la radice della parola italiana idiota l'idiota è chi si rifiuta di fare i conti con la tradizione di dialogare con quello che è venuto prima di lui poi con la tradizione puoi litigare nell'ultima pagina qui del no c'è la parola contestazione parla di CL come di un movimento di contestazione dell'esistente nato come movimento di contestazione perché lui aveva un grande genio nel fare la storia di tutto faceva anche la storia di CL lo storicizzava in tappe diverse nato come movimento è vero contestazione che non è il mettere fra parentesi la tradizione che non è il distruggere la tradizione che non è il negare la tradizione che è il mettere alla prova la tradizione per vedere in che modo è vera per me e che cosa magari invece per me non è più vero perché il mondo è cambiato ed erano cose caduche ecco una idea di ragione una idea di ragione la quale conosce il momento dell'astrazione vive il rapporto con la tradizione riconosce le evidenze del cuore l'uomo entra nel gioco della vita con un insieme di evidenze evidenze logiche ma anche evidenze etiche e la vita è il paragone tra queste evidenze e l'esperienza cercando ciò che confermi queste evidenze originarie per questo aveva ragione Adorno che una volta ha scritto che i positivisti non potrebbero avere ragione contro Hegel nemmeno se avessero ragione cosa vuol dire che Hegel grande filosofo che ha detto un mare di sciocchezze ma anche un mare di cose grandiose fa una filosofia alla quale parla del cuore e un positivismo che mi dicesse che nulla ha senso non potrebbe avere ragione neanche se avesse ragione perché il mio cuore continuerebbe a cercare un senso perché altrimenti l'uomo smetterebbe di essere un uomo e la prospettiva sarebbe quella della deumanizzazione il concetto di uomo potrebbe sparire nella storia qualcuno l'ha detto parlando del del nuovo decostruzionismo qualcuno ha detto che la morte di Dio ma questa è una sciocchezza di cui parlano anche i pesci vendoli al mercato il tema oggi è la morte dell'uomo vedete e chiudo perché vedo che Mina è un po' nervosa sto andando oltre i tempi quando si farà la causa di beatificazione di Del Noce io andrò a testimoniare e racconterò che una volta io ero lì ero un giovane assistente di Del Noce e moderavo Del Noce e gli tolsi la parola dopo 20 minuti e lui non mi ha licenziato questo è una evidente dimostrazione di santità dicevo non importa quello che dicevo meglio che mi fermo perché non vorrei che invece lui a me la togliessi è davvero una parola grazie no volevo dire solo ancora una cosa attenti Del Noce tutti lo amano tutti riconoscono che è un grande perché hanno preso questo o quell'aspetto del suo pensiero Cacciari ne ha preso uno altri ne hanno preso altri il nocciolo del pensiero di Del Noce è questa idea di ragione su questa idea di ragione Del Noce si è incontrato con Don Giussani e poi con Giovanni Paolo II e con Benedetto XVI io in realtà volevo rilanciare molto brevemente un giro di repliche magari ricominciando da te proprio su queste idee di tradizione velocemente partendo da uno spunto del tutto diverso è uscito da poco questo manifesto dei conservatori di Roger Scraton che tra l'altro molto diciamo sostenuto da Ferrara che qui ne fa la prefazione ma autore che spesso ricorre come esempio citato da Ferrara come elemento di valorizzazione della tradizione però su questo punto mi pare che sia molto interessante constatare come uno studioso di questo tipo arrivi a delle considerazioni analitiche molto simili a quelle di Del Noce pur partendo da punti di vista profondamente diversi e sono quasi sicuro senza conoscere credo nulla di Del Noce questo a mio avviso e soprattutto quello che dicevamo prima la profonda coerenza che c'è nel percorso del razionalismo e per cui per esempio la funzionalità di marxismo nei confronti del nichilismo tuttavia e questa è la domanda che io vorrei rilanciare per uno spunto conclusivo ai due interlocutori tuttavia mi sembra che la ripresa del discorso della tradizione che non vada a fondo di un'antropologia che apra questa idea di ragione rischi poi per diventare equivoca o addirittura a soggiacere in qualche modo al discorso razionalismo e in questo leggo solo una frase di Scraton quando discutendo sul problema dell'estinzione tra uomo e animali che poi viene riportato anche per il discorso dell'eutanasia e dice a un certo punto la ragione tende ad arrendersi di fronte alla nostra mortalità ma lasciandoci dei residui particolari e emozioni che non sono facilmente comprensibili in termini razionali e che se mai è fattibile possiamo razionalizzare solo attraverso concezioni religiose o semi religiose tali emozioni rientrano in quel regno della psiche trascurato dalla filosofia che io ho chiamato rispetto o pietas mi pare che in questo ci sia un elemento di grande suggestione e di forza in qualche modo nell'esprimere diciamo così la strettezza di una certa idea di ragione ma nello stesso tempo non dispongano farvolmente a una vera riaffermazione della tradizione perché finiscono per soggiacere a quella riduzione razionalistica di cui parlavamo in questo passando la parola a voi voglio richiamare uno studioso che è anche un amico che è presente che io voglio ringraziare con tutto il cuore che è Giuseppe Riconda che secondo me oltre a essere un grandissimo conoscitore di Del Noce e di tanti altri autori è stato quello che forse secondo me in modo più fecondo ha fatto emergere come il punto del richiamo alla tradizione sia una sfida e un compito come dicevi tu adesso però la domanda che io voglio farvi è partendo dall'analisi di Scraton e dalle osservazioni invece di Riconda sulla tradizione nel senso che se la tradizione non è una sfida alla libertà presente però anche a una verifica sulla verità e quindi a un lavoro sistematico della ragione anche il tradizionalismo finisce per diventare quello che Del Noce invece finiva a pensiero reazionario cioè una sorta di una utopia archeologica cioè di una mitizzazione di un passato che in qualche modo bisogna conservare c'è qualcosa che ci dice questo riferimento di Scraton pone un problema su quello che è il pensiero conservatore ricordo che nell'ultimo saggio parla di Elliot come il massimo esperimento del pensiero conservatore buttiglione e poi Ornaghi ma io vorrei fare una difesa di Scraton attenti la parola filosofia in inglese non significa la stessa cosa come da noi perché il mondo anglosassone è rimasto fuori del razionalismo qual è la caratteristica tipica del razionalismo prendere la prima metà di Cartesio e pensare su quella di costruire la conoscenza della totalità della esistenza e quindi imporre alla ragione di darci dei criteri sicuri anche in ambiti in cui la ragione i criteri sicuri non ce ne può dare questo è totalmente estraneo al pensiero anglosassone il pensiero anglosassone semmai è empirista non ha avuto Spinoza che in Gran Bretagna non ha fatto fortuna invece in Gran Bretagna ha avuto ha avuto Locke ha avuto Barclay e ha avuto Hume i quali hanno lavorato sul limite della ragione ci sono cose sulle quali la ragione intesa in senso cartesiano non è in grado di dare risposte e Scruton si tiene fortemente su questo questo vuol dire che rimane un ambito in cosa vale in quest'ambito per il pensiero metti di Hume la risposta è semplice vale la regola d'esperienza Hume ha scritto un treatise of human reason ma ha scritto anche una history of England il trattato sull'intelletto umano che è un trattato sui limiti dell'intelletto umano ma anche una storia d'Inghilterra il messaggio della storia d'Inghilterra qual è fondamentalmente è un po' simile a quello di Pera in Italia cosa dice Pera su queste cose noi non possiamo sapere nulla proprio perché non possiamo sapere nulla prima di staccarci dalle regole di esperienza che risultano da millenni di vita del genere umano attenti perché potremmo trovarci molto male perché esiste una continuità evolutiva per cui se oggi qualcuno mi viene a dire ma abbiamo costruito una teoria per la quale da domani il matrimonio non serve più a nulla e quindi basta chiudiamo con il matrimonio i rapporti sessuali liberi i bambini li facciamo in provetta prima di andare per questo sentiero riflettete bene perché potreste trovarvi molto male e questo è un po' l'essenza del del conservatorismo anglosassone in questo senso Scruton ha una sua precisa coerenza c'è un problema è questo tutto quello che si può dire in materia quando parla dell'uomo Hume scrive una teoria dei sentimenti morali e naturalmente se la morale è costruita soltanto sui sentimenti uno potrebbe dire io questo sentimento non lo sento se la morale è costruita sul sentimento della compassione a me Mina è antipatico per lui compassione non ne sento e quindi non ho i doveri che altrimenti avrei verso tutti gli altri esseri umani questo tesi lo ha spiegata molto bene Brecht in un dramma dimenticato il tui roman in cui lui parla di uno che sa che spingendo un bottone potrebbe far morire una persona e guadagnare un milione di marchi questa persona è un mandarino che sta agli antipodi che lui non ha mai visto e che non destra in lui nessun sentimento morale come facciamo a riconoscere la dignità di quello che non destra in noi nessun sentimento morale e possiamo parlare solo di sentimento in un saggio scritto tanti anni fa io dicevo che Hume non distingue due cose che sono invece molto diverse una è il sentimento l'altra è la intuizione ci sono verità che noi vediamo che non sono sentimenti quando Giussani parla di questi elementi originari costitutivi del cuore umano questi non sono sentimenti questi sono intuizioni Sant'Omaso direbbe a percezioni prime per esempio in campo logico il principio di non contraddizione non è un sentimento non è oggetto di un sentimento è oggetto di un'intuizione e così le verità etiche fondamentali i trascendentari etici anche essi sono oggetto non di un sentimento ma di una intuizione fondamentale il tema diventa il tema del cuore umano in questo senso sì c'è in Scruton un dialogo che merita di essere proseguito e che del resto è iniziato tanti anni fa perché di queste cose del Noce parlava con un grande filosofo americano che credo che abbia avuto anche un grande influsso su Scruton che è Russell Kirk Russell Kirk è stato all'interno della tradizione empiristica americana una specie del Noce americano e credo che l'incontro di queste due tradizioni possa essere molto fruttuoso purché individuiamo esattamente qual è la questione capendo il modo diverso in cui loro inevitabilmente dentro la loro storia formulano questo problema grazie grazie brevemente su tradizione prima e ragione poi e una brevissima conclusione tradizione credo che non si possa dire meglio rispetto alla domanda di Mire di quel che appunto scrive Riconda quindi mi permetto di leggere puntualmente scrive Riconda credo di non sbagliare dicendo che da ultimo da ultimo le speranze di Del Noce erano largamente fondate sulla chiesa cattolica c'è in Del Noce quella che chiamerei una ecclesiologia filosofica salto una parentesi la chiesa come depositaria del pensiero tradizionale a lei storicamente necessariamente connessa la chiesa come rivendicatrice di libertà anche soprattutto di libertà religiosa la chiesa che si esprime non soltanto nell'ascolto del mondo ma in una sua contestazione perenne che è appunto il superamento di tutti quei regimi che impedisce di considerare la stessa forma di democrazia come l'inveramento assoluto e salvifico dell'azione politica come la chiesa anche i sistemi politici hanno una tradizione il nostro sistema politico la nostra identità nazionale ha o dovrebbe avere una tradizione l'Europa ha una sua difficile da definire con precisione come abbiamo visto in questi ultimi tempi una sua tradizione l'Occidente ha una sua tradizione che oltre ai filosofi giustamente ricordati da Rocco Buttiglione anche qualcuno che è filosofo non era come Edmund Burke che riconosce appunto come nelle tradizioni ci sia appunto l'elemento non razionale Burke è un acerrimo critico dell'astratta ragione della riduzione francese quindi dell'illuminismo c'è l'aspetto emozionale passionale simbolico e quant'altro ma una tradizione è fondata su possiede non tanti elementi alcuni pochi elementi essenziali anche il depositum fidei della chiesa non ha tante verità che magari mutano secondo i climi storici e alcuni essenziali ragione è e ce lo sta insegnando Papa Ratzinger ragione è anche ciò che ci consente di ritrovare l'essenziale perché non ritroviamo l'essenziale che è ciò che dura in ogni stagione storica senza ragione e questo allora è la tradizione pochi elementi ma il venir meno di una tradizione è questo sì segno in equivoco del declinare dei sistemi politici allora io non saprei dire se la civiltà occidentale già sta declinando e sta declinando da qualche secolo piuttosto che da adesso so che lo Stato così come l'abbiamo costruito declina ma declina trasformandosi e trasformandosi rallenta il suo declino questo è possibile in tutti i sistemi politici quindi anche per la civiltà occidentale è possibile che alcune grandi essenziali trasformazioni rallentino il declino ma certamente una civiltà declina quando non è più in grado di riconoscere e non sa più conoscere la sua tradizione cioè i suoi fondamenti cioè il suo depositum fidei quando appunto una civiltà non ha più la conoscenza di quegli elementi essenziali non è più in grado di riconoscere certamente declina ecco allora perché tornando brevemente a Del Noce è importante non solo la sua sottolineatura della tradizione ma quella apertura sull'oggi al rapporto inteso in maniera sempre così controversa fra religione e politica breve passaggio ulteriore che sembra slegato ma così slegato non è certo ragione ragione e però titolo di un aureo libro la procedura democratica è la ragione dei più ma questa ragione dei più che è elemento essenziale necessario fondamentale di legittimazione di ogni sistema democratico è davvero ragione o è una forma diversa di ragione ecco quando dicevo che non so se i politici filosofi che fanno i politici io perdo un po' questi confini ogni tanto per colpa mia ma credo che alcune delle legittimazioni che meno reggono e alcune sono le legittimazioni più di matrice illuministica dei nostri sistemi politici e debbano essere sottoposti a quella attenzione a quella critica e magari a quella contestazione che non hanno mai avuto perché questo è un modo di ripulire da incrostazione cioè chiedersi la ragione dei più è la ragione o è un qualcos'altro perché attenzione se diciamo che la ragione dei più è sempre valida la ragione dei più è sempre valida è sempre valida anche quando anche quando Thomas Moore si chiedeva ma allora se il Parlamento decide che Dio non è Dio devo dire che Dio non è Dio oppure se non è valida quella ragione è una ragione che va chiarita nella sua connotazione rispetto a quella ragione che è elemento fondamentale della scoperta della tradizione breve conclusione ma che credo cerca anche di inserirsi in quello che è il tema o l'elemento di guida di tutte queste vostre giornate non ho dubbio che un elemento forte di ripresa della civiltà che ha dopo la civiltà nella sua forma più pulita e più storica del termine o dell'Occidente debba partire dalla riscoperta dell'essenziale e debba partire appunto da questa notazione corretta autentica di ragione resta poi un compito che o un limite che tutti noi che il limite che poi troviamo anche nell'agire nell'azione politica quotidiana o in quello che noi vediamo dell'azione politica quotidiana cioè come poi davvero queste idee queste osservazioni queste cose che vengono dette che sono sembrano suasive riescono a diventare operativamente azione riescono davvero in qualche misura a spostare o cambiare in meglio qualcosa del mondo perché io credo che questo sia il problema che abbiamo e che abbiamo soprattutto rispetto ai giovani non è un caso che ancora dennoce a scrivere alcuni appunti su una filosofia dei giovani certo era il problema riapertosi del 68 se potremmo aggiungerci quello degli anni 80 ma credo che il tema sia lì perché se da tutte queste grandi importanti enunciazioni da tutto questo riandare l'essenziale noi non riuscessimo noi un po' più vecchi o meno giovani a dire ai più giovani ma attenzione che tutto questo è immediatamente e sulla base dell'esperienza connesso a una causa a una passione a una grande motivazione è che io credo che allora quel declino della civiltà o quel senso di immobilismo della politica in me nonostante i valenti politici quel senso di morta agora sarebbe destinato ad accompagnarci purtroppo per ancora tanto tempo grazie grazie anche per questa contestualizzazione sulla sfida che il tema del meeting pone grazie al meeting grazie a Rocco Buttiglione grazie a professor Ornaghi e grazie a tutti voi buonasera raccolgo le mie cartucce lui distingue il titolo di immobilismo grazie a tutti